Gentilissimi ospiti, a nome di tutti i produttori e soci del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, abbiamo il piacere di darvi il benvenuto al Brunello Day. Il Benvenuto Brunello, l'evento capostipite delle anteprime di presentazione delle nuove annate in Italia, Varca Confini di Montalcino, il nostro bellissimo borgo medievale, per arrivare in nove città distribuite in sei stati. Si tratta di un'importante iniziativa con cui intendiamo rendere ancora più cosmopolita la nostra manifestazione di riferimento. E lo abbiamo fatto partendo dai mercati che sono strategici per la nostra denominazione, Stati Uniti, il Regno Unito ed il Canada. Questi rappresentano infatti circa la metà dell'export a valore della nostra produzione. Quest'anno l'evento si terrà anche in Svizzera, Cina e Giappone. Dall'Italia e da Montalcino al mondo, questo è il Brunello Day delle anteprime internazionali delle nuove annate, a partire dal Brunello 2019 e dalla Riserva 2018. I vini in degustazione saranno anche l'occasione per farvi scoprire il nostro terroir, unico per biodiversità e qualità, caratteristiche di eccellenza che rendono il Brunello di Montalcino ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Si tratta di una grande responsabilità che ci vede costantemente impegnati a tenere alto il vessillo della qualità. Vi ringrazio dell'attenzione e vi aspettiamo a Montalcino, augurandovi una buona degustazione.